Buongiorno a tutti e bentornati al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Portiamoci subito a vedere e analizzare che cosa è successo nella giornata di ieri. Sicuramente possiamo definire la prima seduta adottava come una seduta una pausa di riflessione da parte degli investitori dopo l'ottimo rialzo registrato durante tutta la scorsa ottava. Di fatto andando ad analizzare le performance di tutti gli indici mondiali possiamo vedere come si siano registrati in tutte le borse sia europee e poi anche a Wall Street in chiusura il segno meno. Quindi giornata di leggero ritracciamento, andiamo a vedere nello specifico che cosa è accaduto sull'SP500. Chiusura giornaliera che ha visto un meno 0,30% sia per l'SP500 che per il Dow Jones. Leggermente più forte con una forza relativa maggiore e viceversa l'indice tecnologico Nasdaq che ha ceduto solamente lo 0,17%. Da sottolineare ancora una volta il titolo Apple che si è comportato molto bene anche nella seduta di ieri con un rialzo di oltre un punto percentuale. A seguito soprattutto degli ottimi ordini che ci sono stati oltre 2 milioni per il nuovo iPhone 5 in sole 24 ore. Questo ha permesso appunto al titolo di proseguire nel suo lunghissimo trend rialzista e durante l'after hour anche di superare seppur per poco tempo anche la soglia psicologica dei 700 dollari per azione. Come dicevamo appunto seduta leggermente negativa per Wall Street attualmente ci troviamo in area 1453,5 punti. Che cosa ci attendiamo? La view rimane esattamente identica a quello che abbiamo analizzato nella market view di ieri mattina ovvero i livelli di resistenza più importanti sono stati raggiunti proprio nella giornata di giovedì e ritestati poi successivamente venerdì dove si è disegnato questo partner candlestick che mostrava la volontà di generare una fase di ritracciamento a seguito del fortissimo movimento rialzista configuratosi e ci attendiamo appunto che questa fase correttiva possa proseguire anche per la giornata odierna. Gli obiettivi rimangono identici quindi area 1431, 1422,3 questi sono i principali livelli supportivi dove in caso di raggiungimento gli investitori potranno rientrare nuovamente in acquisto sul mercato. Molto evidente è sempre questa divergenza negativa che si è formata sia sull'indicatore RSI che sull'oscillatore stocastico che avvalla ulteriormente la nostra view di un possibile storno nelle prossime ore. La nostra view verrebbe negata solo qualora l'SP500 dovesse avere la forza di ritornare verso i massimi di periodo superando area 1467 e in questo caso si andrebbe a disegnare un nuovo allungo rialzista fino a 1478 che vi ricordo il livello di resistenza veramente molto molto importante anche su base giornaliera. View che rimane esattamente uguale anche per il DAX di Francoforte performance leggermente in negativo ieri per l'indice tedesco che però sicuramente ha visto praticamente una chiusura solo in frazionale territorio negativo. Il DAX ancora si trova sotto i due principali livelli di resistenza 7.424 e 7.444 e vedete come con l'apertura di circa 50 minuti fa i ribassisti sembrano essere appunto intenzionati ad entrare nuovamente sul mercato. 7.370 In questo caso appunto le quotazioni del DAX di Francoforte proprio in questo istante view confermata ribassista ci atteniamo una fase di storno per l'indice tedesco fino a area 7.158 7.090 un segnale viceversa di continuazione che andrebbe a negare nella nostra view ribassista verrebbe fornito solo in caso di superamento proprio dei massimi relativi precedenti vedete di questi livelli che sto evidenziando anche in questo caso è presente una chiarissima divergenza negativa sia sull'RSI sia sullo stocastico come abbiamo analizzato anche sull'SP500 portiamoci adesso a Piazza Affari il listino milanese che ieri è stato il più debole di tutte le borse europee con una perdita di circa un punto percentuale meno 0,93 per l'esattezza e la chiusura del Fuzzi Mib 16.458 tra pochissimi minuti esattamente 7 minuti prenderanno il via le contrattazioni a Milano e anche in questo caso potete vedere come nella giornata di ieri si sia registrata un'apertura sicuramente negativa con la formazione di questo gap down immediatamente Piazza Affari è arrivata a perdere circa un punto percentuale successivamente durante le ore centrali di contrattazione abbiamo assistito a questa fase di recupero e poi però successivamente vedete a seguito anche della debolezza proveniente da Wall Street Milano è andata a chiudere praticamente in prossimità dei minimi della giornata insomma non molto lontano da questi livelli in deciso territorio negativo anche in questo caso la nostra view è assolutamente ribassista anche per la giornata odierna un primo obiettivo per il nostro mercato sarà andare a chiudere il gap up 16.273 il gap up è ancora rimasto aperto dopo l'ottima partenza registrata venerdì a seguito delle dichiarazioni del presidente della Fed Ben Berneig della vigilia in cui appunto annunciava il nuovo QE3 appunto primo obiettivo 16.273 chiusura del gap in prima battuta si potrà assistere successivamente a un breve rimbalzo e poi gli obiettivi per le prossime giornate sono di un possibile approdo in area 15.707 15.472 spostiamoci anche alla situazione dei principali cross valutari partiamo innanzitutto dall'euro-dollaro vedete una seduta un po' a due facce potremmo definirla una prima parte che ha visto un ritorno della debolezza un nuovo a lungo rialzista che ha portato a definire anche se per pochissimo comunque fare un ritest praticamente dei massimi relativi precedenti a cui è seguito un successivo ritorno della debolezza per la giornata odierna il supporto chiave da monitorare si trova esattamente in area 1.30.82 vedete che è stato raggiunto proprio qualche istante fa questo livello supportivo dai quali si è definito un rimbalzo di circa 20 pips massima attenzione in caso di breakout ribassista potrebbero iniziare le prese di beneficio sulla valuta europea e generare uno storno che potrà riportare l'euro nei confronti del dollaro americano fino in area 1.29.17 nuovo segnale positivo solo in caso di superamento di 1.31.70 che consentirebbe alla valuta europea di riportarsi fino a 1.32.46 andiamo a monitorare anche un cross che stiamo analizzando ormai da qualche seduta vedete dollaro americano contro dollaro canadese che sta reagendo molto bene da questi importantissimi livelli supportivi dove si è formato altresì un partner candlestick di inversione di tutta questa lunga tendenza ribassista si tratta di un hammer che è un partner appunto assolutamente di inversione della tendenza ribassista precedente vedete come la fase di rimbalzo stia proseguendo attualmente siamo in area 0.97.43 e abbiamo registrato già rispetto ai minimi un uptrend di oltre una figura vi assolutamente confermata con possibilità poi nelle prossime sedute e nelle prossime settimane di andare a testare il primo obiettivo in area 1.00 e 52 andiamo a vedere anche quali saranno i dati macroeconomici più importanti per la giornata odierna allora in mattinata i dati da monitorare saranno principalmente due indice di prezzi al consumo del Regno Unito vedete in pubblicazione alle ore 10.30 con previsioni in leggera diminuzione al 2.5% e poi soprattutto dato più importante della giornata durante soprattutto la mattinata lo ZEV tedesco che misura appunto il sentiment dell'economia le attese in questo caso sono sicuramente in territorio negativo però con un meno 19.2 indecisa salita rispetto all'ultima rilevazione per quanto riguarda poi il pomeriggio da Wall Street attenzione alle 14.30 al dato relativo alle partite correnti riviste leggermente in aumento a meno 126 miliardi di dollari e poi l'indice NAB in questo caso anch'esso rivisto in salita a 38 punti bene per oggi è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti un 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 un